Crollo dei nuovi vaccinati, con una riduzione del 41% nelle ultime due settimane. Sono infatti poco più di 486.000 le prime dosi effettuate dal 15 al 21 settembre, a fronte di scorte che superano le 10 milioni di dosi. I più scettici restano gli over 50, all'elento anche le vaccinazioni nella fascia 12-19 anni. Lo rivela, secondo Fontianza, il nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe, fondazione che ha lo scopo di favorire la diffusione e l'applicazione delle migliori evidenze scientifiche con attività indipendenti di ricerca, formazione e informazione scientifica, al fine di migliorare la salute delle persone e di contribuire alla sostenibilità di un servizio sanitario pubblico, eco e universalistico. Intanto si registra un nuovo calo di casi di Covid-19, segnando meno 14,9% in una settimana, così come c'è un'ulteriore riduzione di ricoveri e terapie intensive. Stabili i decessi pari a 394 in una settimana, di cui 33 riferiti a periodi precedenti, sempre secondo l'analisi della Fondazione Gimbe relativa al periodo 15-21 settembre, che ribadisce però preoccupazioni per la ripresa del nuovo anno scolastico, considerato che con la variante Delta le attuali misure risultano insufficienti a limitare i contagi. Autore dei sottotitoli a cura di QTSS